Prima giornata di testa all'Osail in Qatar. Cosa ha detto questa giornata? Ha detto che la Yamaha è competitiva anche su questa pista. Lo era stato in Malesia, lo era stato a Filippa Island, lo è anche in Qatar. Velocissimo Jorge Lorenzo, tornato quello di Sepanga, rifilato quattro decimi a tutti. A Vinales, sempre grande protagonista, e a Valentino Rossi, terzo. Scivolato subito dopo dieci giri dall'uscita dei box, ma poi protagonista di una giornata sicuramente positiva. Continuiamo nelle valutazioni della giornata. Vinales, velocissimo a Filippa Island, aveva concluso la sessione con il primo tempo. Qui si conferma altrettanto rapido. Secondo tempo per lui, un grande sorriso. Vinales è in grande crescita, può essere protagonista per tutta la stagione. La Honda è in grande difficoltà. Solo decimo Mark Marquez, addirittura tredicesimo Dani Pedrosa. Mi sembra di poter dire che le difficoltà della Honda sono quelle viste in Malesia. A Filippa Island Marquez ci aveva messo una pezza, aveva fatto lui la differenza. La realtà è che in questo momento la Honda non è competitiva, non è sicuramente all'altezza della Yamaha, ma sembra inferiore anche alla Ducati. La Ducati che è in crescita, gli Annone Quarto, Dovizioso e Settimo, soprattutto buone sensazioni con la Desmo 16. Queste sono un po' le valutazioni della giornata. Sono sempre test particolari, però, perché iniziano con il sole, si inizia a girare alle 4.00 locali, alle 6.00 comincia a calare il buio. ed effettivamente le prove vere, quelle che hanno significato, vanno dalle 7.00 alle 9.30 massimo di sera, perché dopo diventa troppo freddo, cala l'umidità, le gomme non lavorano bene e i piloti sono in difficoltà, i tempi non si abbassano. Ecco, quindi per questo motivo questi test vanno presi un po' con le pinze, con le molle, però la competitività della Yamaha mi sembra fuori discussione. A domani!